Mercoledì sera alle 21 su TFN, 30 minuti Pedipedi a cura di Roberto Gallà con la regia di Gianluca Luguasto. Luoghi, storie e personaggi di Caltanissetta in primo piano, di cui vi proponiamo una breve anticipazione della puntata che andrà in onda. Amici di Pedipedi, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova edizione di Pedipedi. È il programma che vi fa conoscere i luoghi, le storie e i personaggi della nostra città. Per questa edizione però non sarò da solo, alla camera numero 1 abbiamo Gianluca ecco, e alla camera, insomma camera, la cameretta diciamo 2, ecco io che cercherò di fare qualche ripresa, diciamo così live action. Dove vi portiamo oggi? Allora un attimino perché ci aspetta sicuramente perché ho detto che stavamo per arrivare. Vediamo, vediamo, vediamo chi è. Oh, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ciao ciao. Ciao Rom. Allora, Lorenzo Giulla, allora intanto tiè, sistemati il microfono. Qua siamo, siamo... Però mi aiutarono, non è che tu sei professionista. No, e dai, va bene. Dai, il microfono si mette così. Fai così, fai così. Allora, tu tieni questo che inquadri a Gianluca. Allora, mi metti io chiaro, inquadro Gianluca. Ecco, nel frattempo fai anche un po' da operatore. Come vedete noi siamo molto, siamo molto, molto casalinghi, ecco. Siamo, siamo per la spontaneità. Ok, non basta perché se lo puoi. Questo lo metto qua. Va bene. Benissimo. Allora, Lorenzo Giulla, dove siamo? Allora, siamo nel quartiere Angeli di Caltanissetta, che è, diciamo, la parte più... Stare pedi-pedi in siciliano vuol dire essere sempre in giro ed è proprio questo il titolo della trasmissione di Roberto Gallà che già dalla prima edizione ha conquistato il pubblico e lo ha fatto incuriosire da appassionare di puntata in puntata a tutti quei racconti frutto delle interviste in auto fatte durante un giro per Caltanissetta, così l'auto diventa un salotto in cui a camma accesa gli ospiti si raccontano senza filtri. Son forte e non mi ricordi... Son forte e non mi ricordi...